...e raccomandata da un bello, bravo, e conduttore anche di VU che si sta facendo le osse a maniera molto molto, eh? Bravo, Luca Galvani! Bravo, ciao Luca! Siamo toscani, siamo un po' di parte, va detto, anche per quello, giusto? Allora, metti di vicino alla tua... Metto accanto... ...raccomandata perché so che siete veramente amici, è comodo di qui che è più a favore di lui. C'è più luce. Allora, raccontaci la tua amicizia con Guia, Luca. Allora, io e Guia ci conosciamo da quando avevamo tre anni. Dall'asilo proprio? Abbiamo fatto tutto l'asilo insieme, una serie di recite anche all'asilo insieme, e elementari. Guarda, abbiamo una foto, ma siete voi lì dove siete? Allora, ecco, vedi, quello vado io? Allora, questo... Facci vedere. Sono io con questo bel riporto qua. E lei qual è? E questa è Guia. Fantastico! Sono soddisfazioni perché effettivamente... E l'asilo di Prato? Tutte e due di Prato. Siamo cresciuti insieme, in parrocchie, tutto insieme. Poi tu hai preso la strada di... E poi lei sei sposata con il mio compagno di Banco delle Medie, è quello laggiù. C'è un marito, dov'è, dov'è, dov'è? Ecco laggiù chi alza la mano, vedi, laggiù. L'hanno messo in cima perché... Anche lui di Prato, bello rubizzo, l'hanno messo laggiù. Eccola. Ecco, è lui, è lui. Alzati, Taddeo, fatti vedere, alzati. Eccolo là. Bene, vedi, sposa, bella. Allora, allora, cosa, cosa ci avete preparato, ragazzi, eh? Perché lei canta, che mestiere fa la... Lei fa l'impenditrice, la mamma perché c'ha tre bambini, e ha sempre cantato... Ma il tuo amico gliela secca, allora. Eh, vedi, vedi, ma lo vedi da quell'aria, vedi? L'aria è un po' stanca, infatti, vedi? Però, insomma, e lei ora... Anche perché Prato è sotto Trieste, va bene? Dal Trieste in giù, giusto. Giusto, bene, avvocato, grazie. Allora, avete preparato chiaramente un bel medley di canzoni, due brani, che sono... Something stupid. Something stupid. Sì, sì, moltissimo. Sì, sì, moltissimo. Sì, moltissimo. Sì, è grande. La più egoista e prepotente che io abbia conosciuto mai, eh, assolutamente. Ma c'è di buono, è un momento giusto, tu sai diventare un altro, un attimo, 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 un attimo. Sì, è un po' stanca, un attimo, un attimo. Sì, è grande. Sì, è grande. Sì, è grande. Sì, è grande. Sì, è grande.